Nessuno meglio di noi può conoscere le nostre macchine, la loro tecnologia, le loro performance e le loro potenzialità, di oggi ma anche di domani. Immagina di poter avere tutti i vantaggi di una tecnologia affidabile ora con un cuore nuovo, un cuore creato per questo impianto da chi ha progettato e costruito questo impianto. Prestazioni Produttività Impatto ambientale Rendimento Plug and Play Cartigliano per Cartigliano Semplicemente geniale Blackheart Risparmio Semplifica Dai nuova vita al tuo business Grazie a tutti 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 Grazie a tutti